Capisco che sei ragazzo, capisco che per tre volte se siete stati parlati di più di prossimo ci sarebbero chiesto se ci si possono dire di più, grazie, e questo non è stavo parlando. Stiamo dando alcune risposte su alcune scelte che come Lega abbiamo già pronunciato ci saranno nella prossima manovra economica sul taglio di alcuni oneri burocratici, su un coraggioso e sostanzioso abbassamento delle tasse condiviso sostanzialmente a tutti coloro che sono intervenuti fino ad oggi. Tutti hanno sottolineato la necessità di investire in infrastrutture e opere pubbliche, strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie. Stiamo lavorando all'eliminazione della Tasi che cuba circa un miliardo di euro e alla riorganizzazione della tassazione sulla casa. Si è parlato anche del tema giustizia che ovviamente è fondamentale per uno sviluppo economico a medio e lungo termine del Paese e quindi abbiamo ribadito che dalla Lega non arrivano no ma arrivano dei sì a una vera, seria, efficace, importante riforma della giustizia che dia tempi certi ai processi perché tutti i responsabili economici intervenuti hanno invocato la presunzione di innocenza e il fatto che ci sia il diritto a non essere sotto processo a vita per 60 milioni di italiani. Più di uno hanno sottolineato una mancanza di mano d'opera qualificata e in alcuni casi è stato attribuito all'inserimento del reddito di cittadinanza, il fatto che per qualcuno sia più comodo non fare che fare. Nella mia introduzione ho parlato di coraggio e decisione che sono concetti recepiti da tutti. È il momento del coraggio e delle decisioni, non del tirare a campare perché altrimenti arriviamo a fine anno con lo zero virgola e nessuno pensa che la seconda potenza manifatturiera d'Europa possa rassegnarsi allo zero virgola. A proposito di coraggio bisogna sbloccare dei no che stanno bloccando, ad esempio sul fronte energetico, in campo agricolo, il biometano, c'è il Ministero dell'Ambiente che blocca questa iniziativa. Ho introdotto la setuta dicendo che per questo piano straordinario di investimenti, opere pubbliche, lavori pubblici, manutenzione del territorio e taglio delle tasse, è chiaro che occorrerà ridiscutere con l'Europa alcuni vincoli europei in base ai quali se noi fossimo costretti a sottostare, evidentemente nulla di tutto quello di cui ci stiamo parlando da tre ore sarebbe possibile.